Si sta lavorando alla Cremente, credo che da qui a breve sarà riaperto, proprio l'assessore ai giovani, al patrimonio, Alessandra Clemente, ha messo in campo una serie di azioni, alcune nell'immediato, che puntano all'immediata riapertura della Galleria Principe, che è una copertura per mettere in sicurezza. Poi però stiamo lavorando su una linea di finanziamento importante, poi per una definitiva ristrutturazione della Galleria Principe, stiamo anche lavorando a un progetto ancora più strategico con varie istituzioni, tra cui il MAN con il direttore Giulierini, perché vogliamo fare di quella zona, Galleria Principe, Museo, MAN, Piazza Cavour e la Porta della Sanità, un luogo centrale anche quello non solo del riscatto della città, ma anche per allargare l'area del centro storico verso via Foria e poi Piazza Carlo III.